Ben ritrovati! Qua siamo sempre nella zona dell'Eden del laghetto. Vedete qua il laghetto? Quanto è l'Emna Minor. Se sarebbe le lenticchie d'acqua che galleggiano io le sto dando alle galline. Sono piantine galleggianti, come vedete qua che sto prelevando. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Se mi vedete qua, gli do sempre alle ocche, alle anatre e alle galine. Le lenticchie d'acqua, come vedete qua, che si stanno mangiando. Mangiano e bevono acqua pulita. Grazie per la visione! 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 E vedi qua il cane viene sempre a fare il bagnetto perché è a caldo. e si bagna e si rinfesca. E dopo torna a ribagnarsi. Ecco qua! Vedete? Vedete? Uè vecchio! Mi devo rinfrescare! Mi lavo a faccia con l'acqua fredda! E adesso? Mi lavo anche il resto! E si eh! Perché io sono una testa calda! Ahaha! Poltre vita! Ciao ciao! Alla prossima! Buon proseguimento! Ciao! Ciao ciao!